Presidente, molto rapidamente, ma lei dice che è un momento di difficoltà, è un momento più di difficoltà o più di riordino? Mi rendo conto che forse è antipatico dirlo. Secondo me è più di riordino, perché io mi sto rendendo conto che le disponibilità finanziarie, i soldi alla fine ci sono e che vengono spesi male questi soldi, soldi che vengono utilizzati in modo sbagliato. Quindi di fronte ad un momento di grande crisi, di fronte a un momento di crisi che poi si inserisce questa crisi in un contesto mondiale, quindi un contesto che ovviamente deve rivedere alcune norme che regolano anche il mercato del lavoro, dell'economia e della finanza. È chiaro che anche il nostro Paese deve cercare di fare un passo in avanti. Io l'altro giorno leggevo una importante intervista di Marchion che imitava Monti ad andare avanti e soprattutto vedeva in Monti l'uomo del cambiamento del sistema Paese-Italia. È chiaro che questo momento deve mettere tutti di fronte ad un senso di grande responsabilità, ma anche di cambiamento di mentalità. Non possiamo a tutti i costi noi, per esempio come sta avvenendo e come ha fatto anche il sindaco di Torino, discutere della Fiat magari difendendo alcuni privilegi dei lavoratori in un momento, in un contesto mondiale come questo. Magari Marchionne dice io vado via, me ne vado in America, vado in Polonia oppure me ne vado in un altro Paese dove mi mettono i tappeti rosso e soprattutto mi trattano da un punto di vista anche di pace sociale, perché poi la Fiat, parlo di economia, parlo di un'industria più importante d'Italia, ma potrei parlare anche di altre aziende, ovviamente si inserisce in un territorio laddove c'è accoglienza, laddove c'è condivisione del progetto. Allora quando si parla anche di contratti, sto uscendo un po' fuori tema proprio per far capire che dobbiamo tutti fare un passo avanti se vogliamo entrare in un meccanismo diverso rispetto al passato. Dobbiamo capire soprattutto l'importanza del nostro vivere quotidiano di fronte a un mondo che cambia, che cambia rapidamente. Allora anche noi dobbiamo superare gli steccati che oggi esistono senza alzare troppo l'asticella. Dobbiamo cercare invece di accarezzare i nostri imprenditori, dobbiamo cercare di condividere con loro alcune scelte importanti e strategiche per il territorio, perché quando parliamo di privilegio ai lavoratori e quando parliamo di contratti ovviamente finalizzati e territoriali, come sta attuando la Fiat, significa far guadagnare di più al dipendente, all'operaio, all'impiegato, al dirigente, significa condividere insieme una scelta strategica per ottenere un utile maggiore. Un momento solo Presidente, con la franchezza che la contraddistingue. Abbiamo detto più che un momento di difficoltà è un momento di riordino. Schroeder in Germania, il cancelliere tedesco a suo tempo, quando decise di fare questo riordino, tagliò diverse centinaia di posti statali, di agenzie statali che erano inutili. Oggi la Germania vola proprio perché all'epoca ci furono quei tagli dolorosi. Schroeder, ne diamo atto, perse le elezioni. In questo momento in Regione questo riordino che state facendo riguarda anche i posti di lavoro, esempio, i lavoratori socialmente utili della Regione. L'altro giorno hanno ricevuto un input ben preciso. Ragazzi, se volete, niente stabilizzazione, 35 mila euro e ve ne andate, oppure contratto per tre anni ma poi per dopo non vi garantiamo nulla. È arrivato il momento in cui davvero dobbiamo cominciare di smettere a sognare il posto statale dove non si fa nulla per definizione. È arrivato il momento in cui finalmente anche nella pubblica amministrazione italiana i curriculum saranno tracciabili e quindi sappiamo chi è entrato e per quale motivo? Sì, stiamo iniziando anche noi un percorso di questo tipo in Regione. è chiaro che abbiamo bisogno di tempo, ma il nostro Paese ha bisogno di tempo, tant'è che si prevede anche la cassa integrazione tra i dipendenti statali e nelle pubbliche amministrazioni. è diciamo allo studio questo tipo di norma che ovviamente parirà il lavoratore pubblico con quello privato, perché non è giusto che il pubblico abbia un privilegio rispetto al privato. Anche perché se noi non mettiamo ovviamente a rischio anche il posto del lavoratore pubblico, il pubblico diventa per la burocrazia, chiamiamola così, diventa per questo Paese ovviamente un peso enorme, quindi rappresenta un tappo per quando riguarda invece lo sviluppo. Quindi noi abbiamo invece bisogno di una pubblica amministrazione capace, dinamica, molto professionale per poter accompagnare la vita delle persone, la vita delle famiglie, la vita dell'impresa ad un'attività ovviamente sempre più competitiva. Allora è giusto che venga introdotto questo meccanismo, perché l'impiegato pubblico deve capire che quando si lavora bisogna produrre perché il cittadino paga loro lo stipendio. Questo è il concetto di base. Per quanto riguarda gli LSU e ovviamente la cassa integrazione, sono ammortizzatori ovviamente sociali che noi stiamo affrontando con grande senso di responsabilità. Noi abbiamo chiuso in questi 18 mesi a 3.500 vertenze, quindi che riguardano ovviamente circa 40.000 dipendenti. Però questo non è la risoluzione del problema per quanto riguarda i posti di lavoro. Noi dobbiamo creare le condizioni per sviluppare lavoro sul nostro territorio, noi dobbiamo creare le condizioni, per esempio come abbiamo fatto sul piano casa. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto con una legge, interpretando ovviamente il piano casa nazionale, mettendo in condizione un comparto importante che fattura il 30% del nostro reddito regionale, mettendo le condizioni di operare, quindi rivitalizzare l'economia come lo abbiamo fatto nel campo del turismo, approvando il piano triennale del turismo e come lo faremo ovviamente anche nel campo del piano dei rifiuti che sto calendarizzando in questi giorni per dotare finalmente la Regione Lazio di un piano regionale dei rifiuti. Allora detto questo, la pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni, i comuni, le province devono capire che devono ovviamente assumere un atteggiamento diverso nella gestione della pubblica amministrazione, quindi una pubblica amministrazione in grado di...